ciao a tutti ragazzi ieri ho visto lambo sul torino come potete già vedere qui 32 74 ambosecco 32 74 ho fatto questo video oggi non ieri sera perché poi me ne sono accorto tardi quindi faccio il video domani e lo metto in rete all'indomani quindi io volevo giocare a torino poi non ho giocato però non so se avrei preso questi due perché forse ovviamente di mettercene altri di numeri comunque niente la cosa bella che è riuscito lambo secco e cosa brutta che non l'ho preso nelle altre non è uscito granché infatti come potete vedere 65 a roma e luna a cagliari altre 0 quindi non è non è semplice come dico sempre piedi per terra e comunque il mio programma i miei programmi comunque ce l'avete sempre sotto i video vi lascio sempre il link sotto i miei programmi dei miei fogli excel e poi anche del corso ambosecco l'accademia dell'ambosecco dove viene spiegato dove io vado a prendere i numeri calcoli per formare questi ambi che ripeto è difficile 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 perché non so la ruota dove può uscire uno e non so il quando perché se non sarei ricco chiaramente quindi 32 74 io volevo rigiocare a torino non l'ho giocato però non so se avrei preso questi due perché i calcoli sono sei da mettere da inserire quindi non è semplice però 32 74 eccolo qui ambosecco ho dato un'occhiata ieri sera le altre comunque più o meno è uscito sempre 32 74 1 quello qua in quartina qua solo 74 nelle quaterne secche di giorno ricordatevi che questo è il programma cinque programmi in uno praticamente adesso poi vi spiego nelle quaterne qui è uscito a qui è uscito anche l'ambo su cagliari non l'avevo visto in quartina 1 e 32 eccolo qua 1 e 32 non l'avevo visto anche qui 1 32 32 32 qui è uscito anche l'ambo qui non l'avevo visto 32 74 e poi qua anche il 44 su una perché qui i calcoli sono simili non sono uguali a quelli di 12 ambi secchi ma sono simili in tutti i programmi variano a volte di qualcosa qui 32 74 come dico sempre tanto bisogna vedere se lo becco no non c'è neanche 32 no qui non c'è 32 74 solo no non c'è qui l'ha segnalato qui ma non c'è qui capita ogni tanto mi capita anche il programma degli ambi proprio controllato c'è e qui invece non c'è nel monster dog no c'è 32 basta non c'è 74 comunque 12 ambi secchi 32 74 32 74 preso e non è male io volevo giocare a torino vediamo un attimo e niente ragazzi vi lascio il link sotto come vi ho già detto vi lascio anche il link dall'accademia di lambosecco dove c'è il corso dove viene spiegato tutto per dove io vado a prendere i calcoli viene anche dato il mio programma questo qui però quello sciolto quello singolo dove viene evidenziato il calcolo preciso e poi anche una statistica di un anno e mezzo di estrazioni di ambi secchi da un tot di tempo di mesi di un anno e mezzo quindi niente ragazzi mi raccomando seguitemi se volete cliccate su like se volete iscrivetevi se volete fa piacere e niente ringrazio i nuovi iscritti vecchi iscritti e quelli che si iscriveranno mi fa piacere e niente ho fatto questo video oggi perché devo farlo ieri sera però poi non l'ho fatto ieri sera perché era tardi speriamo bene la prossima e spero di vincere anche io perché veramente perché non ho neanche giocato quindi e superanolotto dove ancora controllarlo vediamo un attimo perché già un po che non controllo perché non riesco a controllare tutti i programmi va bene ragazzi ho parlato tanto ci sentiamo al prossimo video e seguitemi vi auguro buona serata anche se adesso sono le 11 20 16 26 ci sentiamo al prossimo video ciao a tutti grazie a tutti ciao 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 ciao